Ciao a tutti da Valeria! Anche oggi vi parlo delle ultime notizie sul cinema, presentandovi un nuovo attesissimo trailer. Jude Law e Naomi Watts nuovamente insieme. Curiosi? Vi dico tutto dopo. West Orange, New Jersey. Carino, eh? Quello in blu è mio padre e l'altro è il suo migliore amico, Terry. Solo tu riesci a farmi correre. Stimola l'appetito. Sono cresciuta qui con due famiglie. Alla nostra splendida amicizia, ai Wally e agli Ostro. Nina! Sono tornata per Natale. I miei sono qui. In giardino. La vita da queste parti si poteva definire tranquilla. Nina, mi sei mancata. Finché non è successo, che fai, sveglio? Guardo la tv nella mia caverna. Quello che è successo? Oh, cavolo. Io esco. Oh! Katie! Mamma! Oh mio Dio! Katie! Mi viene da vomitare! Hai solo 24 anni! Ci siamo innamorati! Oh, ti prego! Hai combinato un bel casino, signorina. È il migliore amico di tuo padre. Terry, fa qualcosa! Stai bene? No, non sto bene. Ok, adesso posso anche uccidermi. Cerca di capire. Capire cosa? Che sono l'unico figlio al mondo a cui il padre ha fregato la ragazza? Non possiamo essere normali. Cos'è normale? Io non ci riesco, non sono il tipo. Ci rendiamo conto che è sbagliato. Ah! Tu dici? Le sue palle sono molto più vecchie di lei. Katie! Egoista è inaccettabile, ma se ci rende felici... Sì! Eccomi di nuovo qua per parlarvi di Jude Law. Jude Law, quanto ci piace. Allora, Jude Law è entrato a far parte del cast di Queen of the Desert, insieme a nomi Watts e Robert Pattinson. Queen of the Desert, scritto e diretto da Werner Herzog, un nome difficilissimo, scusate, ve lo dico bene. Werner Herzog, sì. È la storia di Gertrude Bell, che è un'esploratrice, archeologa dell'impero britannico, nota per aver contribuito alla formazione del Medio Oriente all'alba del XX secolo. Le riprese del film inizieranno nel marzo del 2013, in Marocco. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo di visitare il nostro sito www.acinemanews.com per le ultime notizie di cinema e i vostri trailer preferiti. A presto!